Oggi, veramente, non ci sto capendo più niente. Tutti dicono che Ronaldo va alla Roma, alla Roma, all'Olimpico, il 29 giugno pronotato. Come facevo a non parlarne? È la notizia del momento. Veramente, io non ci sto capendo niente. Oggi, il 29 giugno, ci sarà un grande evento all'Olimpico, che Pellegrini avrà la 10 e darà la 7 a Ronaldo. Voi cosa ne pensate di questa bomba clamorosa di mercato? Ragazzi, io non ne sarò sicuro fino a quando Ronaldo non metterà piede sull'erba dell'Olimpico. Non ci sto capendo niente. Ci stanno anche degli audio? Carlo ha firmato, ha firmato. A Mallorca è in gran segreto. Ci siamo. Ehi, ciao Carlo. Come va? Sì, sì, no, confermo, confermo. Ho incontrato Pinto due giorni fa e sì, il nome è quello. È Cristiano. Quindi prepariamoci. Ciao, Marco. Ho parlato con un amico che funziona con il Friken Group e Roma è interessato in acquistare Ronaldo. Lo so che non è un'operazione facile, ma sono molto, molto confidente sull'erba e pensano che possono cercare l'operazione nella prima settimana. Che rivelano che effettivamente Ronaldo ha firmato con la Roma in segreto a Mallorca, ma io, ripeto ragazzi, non ne sono sicuro fino a quando non metterà piedi nell'Olimpico. Comunque, fatemi sapere cosa ne pensate voi di CR7 alla Roma. È veramente una notizia clamorosa questa. Grazie a tutti.